Grazie a tutti. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Il centrodestra dopo 15 anni è unito, è compatto, è coeso su un programma unitario, condiviso e scritto a più mani intorno alla figura di Pierluigi Biondi. Buonasera a voi. La giunta è tutta ricandidata, il sistema di potere intorno al centro-sinistra è tutto ricandidato e dietro di lui c'è la triade e Cialente, Pezzopane e Lolli. Di Benedetto sostanzialmente incarnerà la continuità assoluta dell'amministrazione Cialente. Io credo che gli aquilani tutto vogliano tranne che la continuità dell'amministrazione Cialente. A questo poi aggiungiamo anche altri elementi che secondo noi sono devastanti per questa città perché sostanzialmente è Amerigo Di Benedetto, persona per carità indiscutibile, anche un amico. Anche lui con un'esperienza da amministratore comunque di spessore, questo glielo riconoscete? Assolutamente sì, è una bravissima persona, nonché un amico, però Amerigo Di Benedetto sostanzialmente incarna la figura di Matteo Renzi che è partito nei confronti del popolo in maniera positiva ma che poi in realtà si è dimostrato l'uomo delle banche, dei poteri forti dell'Europa della Merkel che ha condizionato in poverito gli italiani. Così Amerigo Di Benedetto incarna l'uomo della banca dell'Aquila che è stata svenduta alla banca del Valvomano Teramana e che oggi sostanzialmente è stata assorbita da una banca che ha anche questa delle perdite strutturali. Quindi Amerigo Di Benedetto incarna l'uomo della Garanzasso Acqua che a tutt'oggi ancora non si dimette, nonostante sia il candidato sindaco ed è sostanzialmente che sta gestendo la più grande appalto pubblico che ci sia. C'è ai sottoservizi, quindi a quello che voi indicate come un conflitto di interessi perché tra i suoi sostenitori c'è Frattale? Assolutamente sì, assolutamente sì. Incarna insomma l'uomo dei poteri forti, l'uomo di un sistema di potere che in questi anni ha condizionato la città e credo che in questo momento ci sia la necessità di un cambiamento forte e radicale non di andare incontro alle esigenze che per carità devono essere tutte quante tutelate ma dare ascolto e forza ai cittadini aquilani che sono in difficoltà, a quel ceto medio che oggi è in difficoltà tutte quelle partite vive, artigiani, commercianti, far ripartire il centro storico insomma fare quelle cose che in questo momento il centro sinistra per otto anni non ha fatto cogliere le opportunità, oggi è oggettivamente ridicolo e imbarazzante sentirsi dire da esponenti autorevoli del centro sinistra diremo, faremo, la città sarà così, la città sarà colà per dire che cosa? Non c'è stata nessuna prospettiva in questi otto anni, non si è colta nessuna opportunità non si sono spese le ingenti risorse pubbliche che ha avuto questa città a disposizione non è partito un appalto sulle scuole e oggi il centro sinistra dice sicurezza nelle scuole facciamo partire gli appalti pubblici il centro sinistra quello che però vi si imputa dalla parte del centro sinistra è che voi negli anni dell'opposizione in Consiglio Comunale non siete stati capaci a detta loro di proporre qualcosa di alternativo e di fare qualcosa di concreto, voi come rispondete a questo? rispondiamo che sono ridicoli anche in questa considerazione perché noi in realtà abbiamo fatto proposte di ogni genere abbiamo fatto proposte sull'aeroporto, abbiamo fatto proposte sulle scuole abbiamo fatto proposte sulla sicurezza abbiamo fatto proposte su quello che è la gestione dei progetti case e l'assistenza alla popolazione noi abbiamo fatto proposte che sono atti, non chiacchiere non avendo struttura a disposizione abbiamo preparato dei libere consigliari che sono rimaste lì nei cassetti e non hanno portato mai all'approvazione il centro sinistra non ci hanno voluto mai ascoltare, non hanno voluto mai condividere con noi i problemi e soprattutto le soluzioni, hanno gestito tutte le cose con riunioni di maggioranza beffeggiando il Consiglio Comunale, non hanno mai aperto a un ragionamento condiviso hanno voluto fare da soli in questi anni perché non volevano che ci fosse una possibilità che qualcuno di noi potesse dare dei consigli e suggerimenti o acquistare spazi elettorali nei confronti del centro sinistra questa è una città che è stata chiusa dal centro sinistra questa è una città che è stata chiusa dalla triade questa è una città in cui si è creato un imbuto dove si passa soltanto in determinate condizioni questa è una città che ha perso tutte le opportunità che ci sono state perché qui i soldi ce ne sono stati tanti ne sono girati tanti c'è stata la possibilità di poter far ricadere sul territorio economia e una cosa assurda il fatto che oggi non si trovi lavoro neanche nell'edilizia credo che la dica tutto dello stato dell'arte in cui la città oggi versa Voi dite anche a microfoni spenti che Amerigo Di Benedetto che è comunque uno dei candidati sindaco di questa città non soddisfa appena neanche gli stessi esponenti del centro sinistra c'è una figura che secondo voi preoccupa anche quelli che sono dalla sua parte questa cosa è confermata a pochi ormai a poco più di dieci giorni dalle elezioni oppure avete cambiato opinione su questo? Noi non abbiamo cambiato nessuna opinione ma tantomeno è un elemento che ci interessa registriamo semplicemente degli aspetti che nel centro sinistra ci sono diversi problemi ci sono diversi problemi sarà un primo turno dei lunghi coltelli dove sarà la guerra l'accaverramento delle preferenze e per la sopravvivenza futura ma non che ci sia al loro interno una coesione né un progetto perché anche al di là di tutto il resto al di là degli slogan in questo momento non mi sembra che il centro sinistra e tantomeno di Benedetto parli di contenuti utilizzano la parola contenuti ma in realtà i contenuti non li hanno loro cosa diversa di per Luigi Biondi che sta parlando di problemi e di soluzioni e di come affrontarli girando le frazioni avendo contatti diretti così come stiamo facendo noi quotidiani di tutti i generi con le persone comuni non è che si chiude dentro la stanza ma il problema del centro sinistra è relativo per quanto ci riguarda noi stiamo facendo la nostra campagna elettorale con le nostre idee con le nostre posizioni chiare contattando la gente e facendo capire che in questo momento in città c'è un'opportunità vera di cambiamento ecco, chi non lo vuole il cambiamento è chiaro che non voterà noi non voterà più di Biondi chi ha la pancia piena vota a Americo Di Benedetto vota al centro sinistra per concludere come si è arrivati alla scelta di Pierluigi Biondi dopo un percorso comunque non semplice anzi in certi momenti è anche travagliato e insomma da parte sua come vede questa candidatura Pierluigi Biondi è stato un sindaco che ha amministrato un comune distrutto come Bira Sant'Angelo qualcuno come il sindaco uscente Massimo Cerente gli ha detto che fondamentalmente quello è un condominio non è paragonabile all'Aquila insomma non è stato semplice arrivare comunque alla scelta di Pierluigi Biondi il centrodestra ormai erano anni che non riusciva a trovare la quadratura intorno a una figura unitaria e anche questa volta si era molto vicini a queste considerazioni io credo che sia scattato un certo momento dentro un po' tutti il buon senso e la necessità di capire chi è che fosse in grado di chiudere la coalizione si sono fatti tanti tentativi noi abbiamo sostenuto con forza che si devono fare le primarie perché era una soluzione politica tecnica elettorale vincente e lo ritenevamo ancora non ce l'hanno fatte fare non si è riuscito a fare questa cosa e si è trovata la quadratura su Pierluigi Biondi perché comunque il profilo così come l'ha spiegato Pocanzi è di un amministratore che è stato un amministratore a corto che si è fatto anche durante il terremoto è riuscito a ottenere dei risultati importanti per una comunità piccola sì ma è importante nel nostro territorio una realtà che è stata distrutta e lui lì ha fatto indiscutamente bene quindi poi le battute di Cialente condominio non condominio cioè amministrativamente per Luigi Biondi è dieci volte più capace di Massimo Cialente Massimo Cialente ha soltanto una grande capacità politica in questi anni gli ha consentito di reggersi a galla amministrativamente è stato un disastro totale basta vedere che non è stato in grado di affrontare e superare nessuno dei problemi che in questa città ci sono da tanti anni le deliberazioni fatte dalla Giunta e le soluzioni tracciate dalla Giunta sull'aeroporto sui progetti case Accor Phoenix chi più ne ha più ne metta la gestione dei progetti case credo che la dicano lunga e gli aquilani credo che sappiano giudicare la capacità amministrativa di Cialente che non ci sono state oggettivamente sono state un problema per questa città e oggi questa città ripeto è davanti a una scelta se continuare in questo modo votando di benedetto oppure cambiare ridare la possibilità a tutti di potersi sentire i cittadini dell'Aquila e avere la pari opportunità tra tutti ringraziamo Emanuele Imprudente coordinatore provinciale per l'Aquila di noi con Salvini e candidato consigliere alle prossime elezioni dell'11 giugno grazie Imprudente e alla prossima grazie a voi 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 grazie a voi